Con la gara disputata ieri mattina si chiude ufficialmente la ventesima edizione del trofeo medagliadoro Maria Cianci Tortora, settimo a memoria al Fausto Tortora, valevole per i campionati nazionali Acli di ciclismo, Master su strada e organizzata, come accade già da tempo, dalla TortoraBike.com, Criscolo Petroli, Pedale Pollese. Il percorso ha toccato i comuni di Polla, Atena, Lucana Scalo, San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio, attraversati quattro volte per un totale di 88 km. Il vincitore della gara ciclistica è stato il giovanissimo Ivan Giglio di Aversa della SD Black Panthers Cicli Magnum, che si è giudicato il titolo di campione italiano e la prima posizione nella categoria A2. Il vincitore ha staccato in volata il gruppo di testa abbastanza compatto negli ultimissimi chilometri. Undicesima posizione in classifica finale, quarto posto nella categoria A4 per Arsenio Cardamone, primo pedale della TortoraBike.com giunto al traguardo. Tra i primi venti anche il capitano della squadra locale Rufino Tortora, per lui prima posizione nella categoria A6. Bene anche per il veterano e anima della TortoraBike.com Ezio Tortora, che ha sfiorato la prima posizione nella categoria A7. Intanto domenica prossima a Montesano sulla Marcellana si correrà il campionato nazionale della montagna su strada, secondo Memorial Toni Camarano.